Siamo ansiosi di collaborare con il Presidente Poroshenko e con il Governo ucraino per sostenere la sovranità e l'integrità territoriale del Paese, nonché la stabilità e le riforme politiche ed economiche necessarie. Incoraggiamo le autorità ucraine a continuare a parlare con la popolazione e con la società civile in tutte le regioni dell'Ucraina e con tutte le minoranze. Il G7 e l'Unione Europea hanno elaborato un programma positivo. Di questo fa parte un programma diplomatico per la distensione, tra cui la dichiarazione di Ginevra, e la nostra assistenza per aiutare a stabilizzare l'Ucraina finanziariamente, economicamente e politicamente. Come segnale del costante sostegno dell'UE e del suo impegno, parteciperò all'insediamento del nuovo Presidente a Kiev sabato e spero che riusciremo a firmare le parti rimanenti dell'accordo di associazione con l'Ucraina quanto prima. Allo stesso tempo invitiamo la Russia a collaborare con il Presidente eletto e legittimo e a contribuire attivamente agli sforzi di distensione, in particolare tramite il ritiro delle sue truppe dalla frontiera, utilizzando la sua influenza sui separatisti armati nell'Ucraina orientale, affinché interrompano le loro azioni illegali e ottengano il loro disarmo per evitare l'attraversamento di militanti armati e armi verso l'Ucraina. Non affrontando questi problemi, la Russia contribuisce all'aumento della violenza nelle regioni orientali. Se gli eventi lo richiederanno, lavori preparatori da parte della Commissione e del Servizio Esterno su eventuali misure mirate sono in corso e continueranno.